Senza voce ma con tanto entusiasmo, Albano protagonista al campus di Economia di Bari per un seminario dal titolo La mia vita appassionata fra show business, impresa e marketing del territorio pugliese. Il cantante salentino, nonostante la raucedine, ha riso e scherzato con gli studenti che hanno ricambiato, riempendo fino all'ultimo posto disponibile, l'aula magna. L'incontro, organizzato dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto di Impresa, è stata l'occasione per sottolineare l'importante esperienza di vita del cantante di Cellino San Marco. Oltre alla musica è stato il settore dello show business e del marketing il tema centrale dell'incontro. Albano rappresenta infatti un personaggio simbolo per la Puglia, grazie alla sua capacità di andare oltre i confini regionali e nazionali. Durante il confronto con gli studenti, arriva Dito che non si considera un imprenditore, nonostante sia attivo da anni nell'ambito della produzione del vino, mentre sul festival di Sanremo si è detto contento per la folta partecipazione di artisti pugliesi e sulle sue due canzoni proposte ad Amadeus ha chiarito. Non è che non è andata, Amadeus me l'aveva già detto, dice dopo il trio che hai fatto è un peccato.